Evidenzo il fatto che dal 1 gennaio ad oggi il comando ha garantito in orari sempre diversi i cosiddetti servizi fissi in tutta quella zona lì, che ha conteggiato ben 600 ore di servizio a piedato, con un aumento del 50% delle ore rispetto all'anno scorso. Questi servizi hanno permesso anche di elevare numerosi verbali per la violazione dei regolamenti comunali che riguardano la detenzione e il consumo di alcol, arrivando ad oltre 40 verbali nei primi 6 mesi dell'anno. L'impegno naturalmente continuerà anche nelle prossime settimane, anche oggi il servizio è stato garantito sia di mattina che di pomeriggio, questo per aumentare anche quella percezione di sicurezza che i cittadini chiedono in certe aree.